Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. L'avevo già anticipato qualche tempo fa durante una mia live. Questo video qui sarà il video collezione dei miei giochi del NES, quindi il primo Nintendo 8-bit. Teoricamente questo è solo il primo video di una serie che vorrei realizzare. Ogni video sarà, se tutto va bene, dedicato ad una console specifica e in ogni video vi farò vedere i giochi che ho per quella determinata console. Ho pensato di iniziare dal Nintendo, un po' perché è stata la mia prima console del mio amore, quello più viscerale, un po' perché mi sono arrivati dei giochi recentemente che voglio farvi vedere e quindi partiamo dal NES anche per una questione cronologica. Quindi, piccola premessa. Allora, la piccola prima premessa l'avevo già fatta, ovvero che il NES è stata la mia prima console quindi ci sono particolarmente affezionato. Una piccola invece postilla legata ai giochi che vi farò vedere è che sono alcuni risalenti a quando ero piccolo, ma molto molto pochi. Tanti li ho recuperati successivamente, quindi con successivamente parliamo negli ultimi due anni. Alcuni sono in ottime condizioni perché li ho voluti comprare in quelle condizioni perché ci tenevo in maniera particolare. Alcuni giochi inoltre non saranno in condizioni ottimali. Questo non perché quei determinati titoli non mi interessi averli, diciamo, in ottime condizioni, ma perché semplicemente mi sono capitati magari d'occasione, quindi li ho presi giusto per chiudere il buco in collezione, uno in particolare che dopo vi farò vedere. Alcuni sono loose, perché per lo stesso motivo li ho trovati a poco, ma nel tempo ho intenzione di migliorare le condizioni di quelli che ho e chiaramente recuperarli degli altri. E l'altra piccola premessa che in realtà è semi inutile, è che non tutti i giochi sono AAA, quindi sono anche tanti titoli molto dimenticabili, però per quanto riguarda i giochi cartonati, quindi NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, anche i giochi non proprio AAA hanno comunque secondo me il loro fascino e quando sono in ottime condizioni ed entrano a poco prezzo, secondo me vale comunque la pena di metterli in collezione. Allora, ho quattro cartucce di numero loose, che vi faccio vedere subito qui via il dente e via il dolore. Allora, The Adventure of Biobilly, questo qui, perfetto, e tra l'altro, questi qua tutti nella sua custodia protettiva. Poi, The Goonies 2, che non ho ancora provato, ma prima o poi lo farò. Questo che sicuramente recupererò poi completo di tutto, perché devo assolutamente averlo. Mega Man 2, però giusto per giocarci fisicamente sulla console, avere proprio il senso, il feeling proprio del gioco su console fisica, ci tenevo ad averlo almeno loose per il momento. e Trojan, che è molto carino, l'ho provato recentemente, è molto molto divertente. E poi andiamo a farvi vedere i giochi che ho fisici completi. Non vi farò unboxing di questi titoli qua, perché non ha molto senso, vi farò una veloce disamina. Se però di qualche titolo che vi farò vedere, volete vedere A, un unboxing, o B, un gameplay, fatemi sapere, perché si può comunque sempre riprendere in mano quel progetto dei deep unboxing, eccetera. Comunque, iniziamo. Andiamo molto randomicamente. Teoricamente erano in ordine alfabetico, nello scaffale, poi li ho presi e ero mischiati, ovviamente. Allora, il primo che vi faccio vedere è Rad Racer. Questo è tenuto molto molto bene. Questo qui è completo di tutto. Questo qua li ho tanti recuperati dai collezionisti, quindi per quello sono in ottime condizioni. Questo gioco, per essere completo, dovrebbe teoricamente avere gli occhialini 3D, finto 3D di una volta, quello con la lente rossa e lente blu, che non ci sono però purtroppo in questa copia. È un peccato, perché comunque è un gioco che ci tenevo ad avere completo, ma anche per vedere come risultava il 3D. Ovviamente era un 3D farlocchissimo, però era un inizio di 3D, quando Nintendo già ci credeva. Virtual Boy, eccetera, eccetera. Poi, Snake Rattle and Roll, questo qua deve essere una sorta di rompicapo, mi ricorda molto Q-Bert con la sua visuale isometrica, che chiaramente non ha niente a che fare con quel gioco, ma visivamente un po' me lo ricorda. Questo, che è molto bello come gioco, Star Wars della JVC, tuttavia è leggermente rovinato, nel senso che questo mi è arrivato in un blocco, uno dei famosi blocchi che recupero ogni tanto. Chiaramente non sono mai riuscito a venderlo. Dentro c'è la custodia distrutta, la sovracoperta nera e la cartuccia. Faccio conto come se ce l'avessi loose. Non sono mai riuscito a vendere neanche 10 euro, alla fine me lo son tenuto. Un giorno, questo qua sicuramente lo upgraderò, e lo prenderò completo, farò poi fuori la cartuccia singola. Poi, questo che è molto divertente, molto simpatico, ricorda molto The Legend of Zelda per alcuni aspetti, è Faxanadu. Tra l'altro mi devo ricordare di non muovere troppo l'inquadratura, perché altrimenti manda fuori fuoco l'immagine, e poi mi ritrovo a fare i casini come nell'ultimo video. Che, in versione italiana, purtroppo non ho il libretto di questo, però l'ho comprato da un ragazzo, che fa spesso fiere da queste parti, in Polizia di Torino. L'ho pagato 10 euro, è comunque tenuto molto bene. C'ha la cartuccia, non ha il libretto, ma comunque ci può stare. Poi, questo, chiaramente vi sto tenendo i pezzi un po' più figli per dopo. Adesso voi direte, che giochi di merda. Un attimo, ci arriviamo. Super Spike V-Ball, che è un gioco di beach volley, è un gioco abbastanza tremendo, però ha giocato in compagnia al suo perché. Al suo perché, tra l'altro, recentemente per PS4, Xbox One e PC, è uscito un Spike V-Ball, e fa parte di quella saga lì, nata su NES, tanto, tanto tempo fa. Poi, questo, un ottimo, come si dice, un ottimo rompicapo, molto divertente, ve lo consiglio, che costa anche poco, Kickle Cubicle, anche questo qua, versione italiana, tenuto molto, molto bene, devo dire, è completissimo, è molto carino, è un puzzle game, molto, molto semplice, senza grosse pretese, ma ha una bella curva di difficoltà, nel senso che, subito parte semplice, ma poi diventa molto complicato, è molto severo, è proprio il classico puzzle arcade di una volta. Poi, Silent Service, che non ho idea di che cosa sia, ce l'ho da una vita a questo gioco, ma non l'ho mai provato, parlerà di sottomarini, di guerre, non lo so, non ho più palida idea, sul retro non è che ci diano le vostre informazioni, almeno così è una prima occhiata, quindi niente di che. Poi, Tecmo World Wrestling, gioco di golf, probabilmente, e poi per finire la prima colonna, con i giochi sei minuti, se vogliamo, però alcuni sono comunque carini, e sono tenuti anche bene, Wrath of Black Manta, della Taito, questo è molto divertente, molto carino, e ha una cover art molto particolare, con un drago che rona molto il drago Shenron, non so quanto sia voluto, o meno, comunque il classico drago dell'iconografia giapponese, saliamo ora un pochino di livello, allora, vi faccio vedere alcuni giochi, mi sono presi molto a caso, il primo che vi faccio vedere è, un gioco Capcom, un Taito, un Taito, riduce di un'epoca in cui Capcom faceva veramente dei Taito pazzeschi, cioè, con le licenze Disney faceva dei capolavori, questo è forse il suo fiore all'occhiello, comunque uno dei suoi fiori all'occhiello, DuckTales, meraviglioso, meraviglioso anche solo per la, per la traccia del, il Moon Team, già solo per quello meriterebbe comprare questo gioco, poi abbiamo qua un capitolo di Castlevania, ovvero Castlevania 2, Simon's Quest, tenuto non benissimo, nel senso che, condizioni possiamo dire un 7 su 10, però è completo, versione, dovrebbe essere la versione italiana, perché ha reto in inglese, ma comunque il gioco, dovrebbe essere comunque la versione italiana, se non ricordo mai, si è fabbricato in giappone, quindi la versione italiana, e, bello, Simon's Quest, un gioco che, merita di essere rivalutato, un po' come il secondo Zelda, perché, era, era un esperimento, era un esperimento, sicuramente non riuscito benissimo, era un esperimento, e ha il suo, al suo fascino, questo sicuramente lo andrò poi a migliorare, a livello di condizioni estetiche, perché ci tengo ad averlo in una condizione decente, devo poi recuperare chiaramente anche il primo capitolo, che costa discretamente, e il terzo capitolo, Castlevania 3, Dracula's Curse, che costa intorno ai 300-350 euro, è il pezzo più caro della trilogia su NES, e lì, o mi capita l'occasione, o bisognerà cacciare i soldi, per forza, poi, Baldur Dash, Jig, questo è uno di quelli che deriva, da quando ero, ero bambino, quindi anche per quello che ricordi, sono un pelino affuscati, questo che, non lo conoscevo, mi è capitato in un blocco, l'ho tenuto sulla fiducia, è molto divertente, Blue Shadow, Blue Shadow, che è una sorta di, platform action, ricorda molto, per certi versi, Strider, è molto carino, ha una traduzione, come spesso capitava, del retro copertino, e del libretto, spassosissima, ve la dico perché è veramente meraviglioso, è l'anno 2029 a.C., ed un pazzo controlla le città più importanti d'America, quando apprende queste notizie, l'imperatore Garuda sente un profondo brimido dentro di sé, perché sa che gli invasori sono dei ninja, dei ninjas, cioè, qua veramente, Google Translate, quando ancora non c'era, avete capito il senso della frase? No, benissimo. Altro gioco della linea Capcom, che all'epoca, in quegli anni, era veramente devastante, sempre quelli con la copertina blu, quindi c'è proprio una linea, dedicata a Capcom, è Bionic Commando, versione, questo qua, anche dovrebbe essere la versione parita, sì, esattamente, è Bionic Commando, lo conoscono tutti, come conosceranno tutti, il suo tremendo remake, o barra reboot, che avevano fatto su PS3, non ci voglio nemmeno pensare, mi vengono iconati di vomito solo a pensarci. Allora, adesso passiamo a un'altra colonna, in realtà rimangono due colonne, qua ci sono i pezzi un po' migliori, se vogliamo, alcuni sono ancora riduci della, diciamo, della feccia, tra virgolette, di prima, altri invece sono molto molto belli, allora ci troviamo subito, Mission Impossible, che è un gioco carino, però sicuramente niente di che, l'ho tenuto a questo, perché mi è entrato in un blocco, ma è perfetto, perfetto, completo, io spero di non aver messo tutto fuori fuoco, in questi, in questi cambi d'immagine, ma ho provato di averlo fatto, poi, questo vi ho fatto il deep unboxing, di questo gioco qua, vi ho fatto il gameplay del suo remake, per GBA, e vi farò sicuramente anche il gameplay coperto di questo, originale, Kirby's Adventure, versione Paljig, di tutti i giochi che ho per NES, è sicuramente il più costoso, e anche in generale uno dei miei più costosi in collezione, perché siamo intorno ai 250-300 euro, è veramente perfetto, questo è il classico fondo di magazzino, aperto sì, ecco l'unico piccolo difetto, ce l'ha qua sopra, non so se riuscite a vedere, dove è stato rimosso il bollino jig, c'è un pochino di strappo, però è veramente perfetto questo gioco, è uno dei pezzi di cui vado maggiormente orgoglioso della mia collezione. Abbiamo poi alcuni giochi che mi sono arrivati recentemente, e non ve li ho ancora fatti vedere in un videoacquisti, in realtà è nella vita che dico, devo fare videoacquisti, non ho mai tempo di farlo, nel frattempo si aggiunge roba, quindi comincio a farvi rivedere questi, ce ne sono anche altri, ma qua ne ho un filotto tutto assieme di roba che ancora non vi ho fatto vedere, altro gioco Capcom, per dire che Capcom all'epoca spaccava di brutto, Darkwing Duck Paljig, questo gioco qua è veramente uno spettacolo puro, un platform di un divertimento incredibile, vi ho fatto il gameplay completo di questo gioco qua, tre parti di gameplay insomma, non era lungo, ma molto molto divertente, l'ho recuperato da poco, questo ho pagato intorno ai 50 euro, una roba del genere, tra l'altro mi devo ricordare, questo lo faccio anche come nota vocale per me, quando andrò ad editare il video, vi metterò, e l'avrete già visto, le valutazioni dei vari giochi, non quanto li ho pagati, perché alcuni li ho comprati io mirati, quindi li ho pagati bene o male quanto valevano, ma la maggior parte mi sono o rimasti di quando ero ragazzino, bambino, oppure li ho recuperati veramente a prezzi irrisori, quindi mi metterò le valutazioni di mercato a diciamo febbraio 2019, anche per chi guarderà questo video molto più avanti nel tempo, chiaramente i prezzi sono molto ondulatori, salgono, scendono, salgono più che scendono in realtà, quindi facciamo fede a questo periodo qua, inizio 2019. Poi, altro gioco Capcom, perché ci piacciono i giochi Capcom, Chip and Death Rescue Ranger, purtroppo questa versione Palookay, non Paljig, peccato, in realtà non c'era grossa differenza prenderlo Palita o Palookay, però l'ho trovato veramente d'occasione, in più avevo un buono da sfruttare su Amazon, quindi l'ho pagato 15 euro in tutto, e l'ho recuperato, è completo, per un giorno magari prenderò anche la versione italiana, tanto sta intorno ai, 45-50 euro, non di più. Poi, questo anche l'ho recuperato da poco, da un ragazzo che mi ha venduto anche un altro gioco, Double Dragon 3, molto molto bello, è chiaro, Double Dragon li conoscono tutti, andrò poi a chiudere la trilogia, prendendo anche gli altri, questo qua, anche questo qui, completo, è italiano, è una copertina che mi piace veramente molto, questo, un capolavoro, Dacant, e il suo fottutissimo cane, tenuto molto 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 bene, non ho la Zapper, devo recuperare la Zapper in effetti, Dacant, ci ho passato la vita su questo gioco, avevo, all'epoca avevo la versione doppia, Mario Bros e Dacant, adesso avevo recuperato il Mario Bros, adesso mi sono recuperato anche la versione fisica di Dacant, perché giustamente ci voleva in collezione. E passiamo all'ultima fila cicciosa, ah, che bei titoli che vedo qua. Allora, questi tre mi sono arrivati proprio in questi giorni, vi ho messo anche la foto sulla pagina di Facebook, quindi penso molti di voi l'avranno già vista, sono tre giochi molto molto carini, pagati il giusto barra qualcosina di meno, perché in realtà sono stati un buon affare, lo pagano tutti e tre assieme intorno ai 200 euro, il che è buono, perché sono giochi che complessivamente, sommando i diversi prezzi, valgono di più. Allora, innanzitutto abbiamo Rainbow Island Bubble Bubble 2, il classico arcade, quello degli arcobaleni, insomma lo conoscono tutti, ha una custodia, una cover art veramente eccezionale, i bei tempi della Osean, mamma mia, che bel gioco, sono veramente contento di averlo recuperato, completo, l'unica cosa che manca in questi tre giochi è il polistirolo al fondo, però il polistirolo è un, diciamo, un pezzo del, diciamo, di tutto il packaging del gioco, molto anonimo, cioè lo si può anche ricreare manualmente, cioè non è un problema. Poi abbiamo Mega Man 3, Paljig, e questo è veramente figo, mamma mia, sono veramente stracontento di aver recuperato questo gioco, perché è tenuto molto molto bene, ha, a onor del vero, un piccolo strappo qua dietro, però veramente poca roba, nel senso che il gioco non è complesso, è tenuto molto molto bene, ed è completo, e poi quello che più volevo recuperare di questo lotto, quando ho visto la foto del tipo che li vendeva, perché ce l'avevo all'epoca, ed è uno dei giochi che io faccio coincidere con il mio battesimo videoludico, se vogliamo, perché quando ripenso a quando ho iniziato a videogiocare, con che cosa ho iniziato a videogiocare, uno dei primi giochi che mi viene in mente è questo, Tartos 2 di Arcade Game, sono veramente stracontento di averlo recuperato, versione italiana, completissimo, unico mio piccolo crucio di questo gioco è non essere mai riuscito a finirlo, anche in tempi recenti, se non con aiuto di Save State, ovviamente, perché la battaglia finale contro Shredder è veramente una cosa da fuori di testa, sono veramente molto molto felice di averlo recuperato, tra l'altro trovo che abbia una delle cover art più belle di tutta la linea dei giochi NES in generale, molto molto bello, vi porterò il gameplay di questo a breve, perché merita, poi qua abbiamo una bella coppia, allora purtroppo uno di due è incompleto, manca il libretto, però l'ho tenuto in collezione perché è tenuto molto bene, vado sempre con la speranza che prima o poi salti fuori un libretto singolo su ebay, purtroppo non è ancora capitato, una bella coppiata, ve li faccio vedere assieme The Legend of Zelda e The Legend of Zelda The Adventure of Link, entrambi versione palita, allora, piccola nota, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, Zelda 2, The Adventure of Link, l'ho recuperato tempo fa in un'asta di ebay che ha tipo 25 euro comprese le spese di spedizioni, perché è questo? Perché l'asta non l'ha seguito nessuno in quanto manca il libretto, però il gioco è tenuto molto molto bene a livello fisico, prima o poi un libretto salterà fuori, dovrebbe avere anche la mappa, non ricordola sinceramente se è la mappa o meno, quello che sicuramente ha la mappa è questo, tra l'altro l'ho messo anche in un box rigido, protettivo, perché questo è il gioco, forse per nesso, tolto, ecco, se lo gioco è con Kirby Savage, però a livello storico il primo Zelda, questo qua è veramente una cosa incredibile, io sono contentissimo di averlo messo in collezione, questo l'ho pagato, purtroppo mi manderete a cagare, ho preso un blocco dove ho recuperato anche altre roba che avete già visto, pagato unitariamente 7 euro, mi vergogno di dirvelo, però è così, quando capiranno certe botte di culo uno può fare altro che prenderne atto e mettere il gioco in collezione, sono veramente strafelice di avere questo gioco, qui tra l'altro è completissimo a libretto, mappa, cioè c'è tutto, c'è tutto, se dovessimo mai riprendere in mano la linea dei deep unboxing di video, questo gioco sicuramente ve lo devo far vedere, stavo tra l'altro ripensando e magari mi farete sapere anche voi nei commenti di riprendere la rubrica deep unboxing, ma non commentata, cioè fare dei video di unboxing in cui vi faccio il montaggio, vi faccio vedere tutto quanto ma non commentata, questo perché? perché ho notato che i video unboxing vengono sì visti molto qua da noi ma vengono visti molto anche all'estero e siccome mi piacerebbe magari abbracciare anche un po' di utenza straniera con qualche video, mi piacerebbe magari fare degli unboxing che possono tornare utili anche a qualcun altro fuori dall'Italia senza l'ostacolo della lingua perché così come noi abbiamo l'ostacolo della lingua inglese per comunicare con gli altri anche gli altri hanno l'ostacolo della lingua italiana nel comprenderci e quindi molti video che magari potrebbero essere apprezzati fuori dall'Italia non possono farlo perché appunto sono limitati dal vincolo linguistico pensavo di fare una cosa del genere poi magari mi farete sapere voi nei commenti cosa ne pensate comunque pensavo di riprendere in mano la rubrica sotto quelle vesti poi abbiamo il primo Tartos questo qua forse l'avevo già fatto vedere questo qua dovrebbe essere la versione Polukay non ricordo sinceramente no dovrebbe essere la versione palita comunque completissimo così ho Tartos 1, 2 mi manca il 3 Manhattan qualcosa che anche quello è un pezzo che pesta a livello di prezzo poi abbiamo la trilogia ve l'avevo già fatta vedere di Super Mario Bros quindi abbiamo Super Mario Bros 1 completo questi sono tutti tenuti in condizioni pari al nuovo perfetti Super Mario Bros 1 Super Mario Bros 2 Mario Madness la follia di Mario che come tutti sappiamo non è l'effettivo Mario Bros 2 perché l'effettivo Super Mario Bros 2 è il The Lost Levels questo è un remake o meglio porting di Doki Doki Panic l'abbiamo detto mille volte ma lo diciamo di nuovo e poi Super Mario Bros 3 che è tra tutti e qua c'è uno schifo appoggiato ok della colla che è rimasta appiccicata questo dei tre è l'unico tenuto meno bene ma è comunque un otto e mezzo barra nove su dieci perché questo? perché arriva dall'epoca tant'è che l'ho comprato da Alex Computer il 99.900 lire i bei tempi di Alex Computer perché di Torino tanto tempo fa e poi abbiamo ancora due giochi che in realtà non sono fenomenali tranne uno ma è messo maluccio quindi il boom l'avete già visto abbiamo ancora Kabuki Quantum Fighter che in realtà è molto carino questo anche questo qua è un action strutturato a quadri molto carino anche questo qui in realtà e poi abbiamo che se fosse completo sarebbe un pezzo della madonna abbiamo il primo Megaman che purtroppo è senza libretto e a livello di compattezza di custodia è abbastanza messo bene purtroppo eh purtroppo è capitato così ho recuperato questo gioco e Castlevania 2 dello stesso ragazzo me li ha venuti a 10 euro l'uno quindi vaffanculo c'è anche che è un po' rovinato un po' rovinato è tanto rovinato perché manca un pezzo dell'embo superiore manca il libretto però a 10 euro non ci compri neanche la cartuccia l'uso e quindi nulla questi erano i giochi che ho attualmente quindi a febbraio 2019 per Nintendo NES come detto questo sarà solo il primo di una serie di video che intendo portare quindi successivamente vi porterò anche in base al vostro feedback dei video similari per le altre console penso il prossimo video sarà quello dei giochi PS1 perché è la parte di collezione un po' più importante in realtà non a livello numerico ma a livello qualitativo quindi penso il prossimo sarà sui giochi PS1 ma vedremo un pochino come fare con il tempo sicuramente mi arriveranno nuovi giochi per NES come per tutte le altre console perché la collezione è sempre in divenire perché un buon collezionista si può definire tale quando la sua collezione è sempre incompleta quindi la mia collezione lo è per l'appunto quindi cosa succederà ogni volta che avremo un tot di giochi magari 5 5, 6, 10 titoli nuovi per esempio in questo caso per NES farò un video aggiornamento che si andrà ad incorporare a questo video che state vedendo in questo momento quindi magari non so faremo delle playlist rinominerò i video in modo da essere visti conseguenzialmente per chi li guarderà dopo insomma me la strutturerò un attimino e niente per ora è tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a lasciare un bel mi piace a commentare a condividere il video se vi va fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto chiaramente scrivetemi magari nei commenti se anche voi siete dei patiti del NES se avete anche voi dei giochi in collezione che cosa avete insomma scambiamoci un po' un po' le opinioni se avete visto qualche titolo in particolare in questo video di cui vorreste vedere o un deep unboxing con la formula che vi ho detto o un gameplay fatemelo sapere perché posso tranquillamente lavorerci su in realtà buona parte dei giochi che avete visto in questo video meriterebbero un gameplay dedicato e col tempo cercherò sicuramente di portarli però per l'appunto ci va il tempo quindi niente vi ringrazio ancora una volta vi saluto e vi do l'appuntamento a un prossimo video ciao ciao